Buona a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Matt Six e oggi siamo su Clash Royale Mi sembra a me un baule magico Tre Frecce Cavaliere E Valkyria Quanto ragazzi siamo in Arena 2 E oggi andremo a scalare Ok Due Tre bombarolo UUUUUUUU Mamma mia Eh vabbè dai Tanta tanta roba raga Tanto abbiamo sblocato anche i sgherri Questo Il nostro migliore è la sfera Che ci serve tantissimo Allora ragazzi Fate questo deck Che è fortissimo mettete in pausa Ma è davvero forte 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 Ora metto un attimo qua Per farvi vedere meglio Non che mi cada ecco Ok Ok ragazzi andiamo contro l'arena 3 Vai pronti eh Raga mettete tanti like Tanti tanti like Vedete che su quella Un'altra accanto non è quello che usa sempre Ecco qua vedete Ok pozzo delle ossa Siamo contro Grey social 3 Ok comunque Noi partiamo subito Facciamo questa combo Internet Dai Perché non prende mai internet Raga ha messo il gigante Dai C'è raga Porca Perché raga Mamma mia Ma facciamo una cosa Allora Ragazzi questo video durerà un pochetto Comunque non sentite l'audio Perché La dovevo levare Ok fatto Ok ora prende Il carino di qua Il principe intanto là Sta attaccando Cavolo raga Cavolo 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 Ragazzi io direi che la prima L'abbiamo persa Perché Non è giusto Raga Secondo me No Il cavaliere Da schifo Dove è schifo Però Fio mio Ok Noi raga Niente Ragazzi Vi dico subito Che Se arriviamo Cioè Questo qua Me l'ha chiesto Sempre Giorgia Giorgia La mia compagna di classe E Mi ha chiesto di fare sempre un video Su clash Quindi io la saluto E gli dico grazie Che mi hai fatto fare questo Ok Oh perga Stiamo recuperando Pochissimo Perché abbiamo la torre al 590 Attenzione Attenzione Possiamo forse recuperare Che dite Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Anche se Sto come fai Ma no Vabbè Raga Più 31 Attenzione Baule d'argento Adesso ragazzi Vi dico subito Che ho trovato Un baule magico Sì Già Avete Proprio sentito benissimo Baule Magico Diallo 4 Conto il livello 4 Mach tap Non so Non metto il tifo Sì Wey Ci sta attaccando con il principe Wow 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 Quello mi permetti Quello mi permetti Raga Raga No Raga Secondo me sta qua Andata Che dite voi Cavaliere Era fastidio Malissimo Era proprio Troppo fastidio Il cavaliere Però Al principe Perché Prince Raga Come sapete Ha un Terzo Ha Due terzi Di Ha Zero terzi Di Vita Quindi Tanto Andiamo a vincere Con tutta quella Roba La Eh già Perché Io sono forte Raga Ve l'ho detto Sto tech È troppo forte Se mi incontrate Intanto ragazzi Mi invito A entrare Nel clan Ehm Clan Di Georgia Eh Sì Aspettate Fammi vedere Quanti trofei Servono Zero trofei Necessari Per entrare Quindi Entrate Raga Perché È bellissimo E si chiama Clan Dove si fanno Dove si scherza E si fanno amichevoli In realtà Dovrei cambiarlo Solo che Non posso Da qui Perché Eh Non so Nel primo Vabbè Se vede così Raga È perché Infatti Per me Me dà Fastidio Sì Sì Raga Ali Ebbe La mia La ragazza Che a me piace La dico Anche In un video Ce la si chiama Mi piace Lo so Sto Sto facendo Una video Un po Di Vabbè Andiamo avanti In arena 2 Ragazzi Oggi Come già Vi ho detto Andremo in arena Non so parlare 3 Allora Se vedevo bianco Perché Non ce la faccio Ragazzi Perché Devo tenere Sia quello Che quello Quindi È un po Difficile La situazione Qua Eh Sì Papà Ora te lo do Eh Ora te lo do Comunque ragazzi Se non siete ancora iscritti Iscrivati al canale E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo E noi ci vediamo